Vaccinazione anti-covid agli over 80 e vulnerabili, massima attenzione dell'ASPE di Siracusa a queste categorie. Già sono state superate le 50.000 dosi somministrate tra prima e seconda, quando agli over 80, tra le categorie prioritarie previste nel piano nazionale, l'azienda sanitaria di Siracusa si è adeguata predisponendo per loro strutture protette in totale sicurezza nei quattro ospedali della provincia di Siracusa. Essi registrano quasi 10.000 over 80 vaccinati, di questi 2.000 presso SRA e nelle 116 case di riposo, 1.800 anziani presso la loro abitazione su un totale di 3.000 che si sono prenotati, raggiunti a domicilio dalle varie squadre coordinate dal Dipartimento di Prevenzione Medico e dai distretti sanitari. Particolare attenzione dedicata anche ai pazienti fragili, come soggetti vulnerabili per patologie e disabili gravissimi, le cui cifre arrivano ad oggi a superare i 7.000 vaccinati sul territorio provinciale. Altrettanta attenzione dedicata ai conviventi e ai caregiver delle persone vulnerabili per i quali è stato predisposto un apposito modulo web sul sito dell'ASP. I carabinieri della stazione di Villa Smunto a termine di un'attività investigativa denominata Tricolors, diretta dal sostituto procuratore della Procura del Tribunale di Siracusa, il dottor Parodi e coordinata dal procuratore Scavone, hanno notificato un avviso di conclusione di indagini preliminari nei confronti di 10 persone. Le indagini che hanno impegnato l'arma di Villa Smunto dal 2016 al 2017 hanno consentito di fare emergere un'attività di spaccio di sostanze stupefacente, marijuana e hashish, tra i comuni di Medili, Augusta, Lentini e Carlentini. I reati contestati a vario titolo sono quello di traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione e violazione delle leggi sulle armi. Nel corso delle attività è stato riscontrato che i soggetti coinvolti nello spaccio utilizzavano tra loro il linguaggio criptato, nello specifico indicavano lo stupefacente, indicando con colori il bianco per la cocaina, il verde per la marijuana e il marrone per l'hashish. Appunto per questo la denominazione Tricolors. L'attività aveva creato una vera e propria attività commerciale. Nel corso dei contatti con gli spacciatori era sovente richiesto se fossero aperti, ricorrendo anche a consegnare dell'air di stupefacenti che venivano addirittura riposte in cesti di vimini calati dai balconi dagli acquirenti. Diversi sono stati i sequestri operati nel corso delle indagini, 900 grammi di marijuana, 400 di hashish, 4 grammi di cocaina, 3 piante di cannabis alta, un metro e mezzo. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire altresì munizioni e armi e parti di essi, nonché componenti di motocicli oggetto di furto. Contrasto le piazze dello spaccio di droga anche a Siracusa da parte della Questura. Gli uomini delle volanti, nel contrasto della vendita del consumo di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di controllo sul territorio antidroga, hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione in via Grotta Santa, 70 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana, 5 trita erba e un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata e un uomo di 31 anni, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il comune di Floridia si avvia verso la dichiarazione del dissesto finanziario. La giunta comunale guidata dalla primo cittadino Marco Cariani si è espressa verso tale direzione. Vi sono da tempo controlli sulle finanze dell'ente da parte degli enti preposti della procura. Le forze politiche chiedono un confronto per evitare le conseguenze che avrebbe il dissesto sulla città. Il Partito Democratico ha emanato una nota in cui sostiene che è falso affermare che nel bilancio del comune vi sarebbe un buco di 14 milioni di euro, ma soltanto di 2 milioni di euro. È falso che negli anni passati siano stati approvati bilanci gonfiando i trasferimenti regionali e nazionali e che il comune di Floridia spendeva più di quanto previsto in bilancio. Pretendiamo che sia indicato, dicono dal Partito Democratico con precisione, chi abbia eseguito tali spesi a qual impegni di bilancio senza copertura si riferisce. Il Partito Democratico ritiene che la strada del dissesto è quella più comoda, ma quella che creerà più problemi all'ente e che si rivelerà un boomerang per l'intera comunità, determinando un pesante danno economico per gli imprenditori o ancora all'ente che rischia di essere escluso dalla partecipazione a bandi. Abbiamo richiesto però i dettagli al primo cittadino Marco Carianni. Nel 2019 noi ricevamo da parte della Corte dei Conti una deliberazione. Questa deliberazione contemplava tutta una serie di anomalie riscontrate sugli esercizi finanziari 2015 e 2016 e appunto chiedeva all'amministrazione del tempo, che poi è stata quella commissariale perché subito dopo la ricezione di questa delibera si era sfiduciato il sindaco Limoli, di produrre delle misure correttive che consentissero all'ente di uscire da questa situazione così anomala è difficile. Il commissario ha operato tutta una serie di attività che poi si erano tradotte in delle osservazioni presentate appunto al cospetto della Corte dei Conti. A gennaio del 2021 la Corte medesima ha risposto non soltanto rigettando le osservazioni che erano state fatte dall'ufficio ragioneria di concerto con il commissario, ma anche contestando tutta una serie di anomalie analoghe a quelle degli esercizi precedenti 2015-2016 che si sono poi praticamente riverberati sugli esercizi a seguire, quindi dal 2017 al 2019, coincidendo anche con quella che è stata la gestione commissariale. Abbiamo fatto insieme all'ufficio ragioneria una comparazione su un eventuale piano di riequilibrio finanziario, ne abbiamo ravvisato la insostenibilità perché il disavanzo che noi dovremmo appunto ripartire con un eventuale piano di riequilibrio finanziario sarebbe troppo ingente e non sarebbe sostenibile per il Comune. Abbiamo adesso prodotto un atto deliberativo che va purtroppo verso il dissesto, lo dico chiaramente perché su questo giustamente le forze politiche hanno chiesto un confronto, confronto su cui io manifesto la mia totale disponibilità, però se tutte le forze politiche hanno modo di approfondire la situazione tecnico-contabile dell'ente avranno modo pure di constatare come sia quasi impossibile determinare un eventuale prediscesso. Quali conseguenze negative e quali positive si hanno? Ma le conseguenze saranno che purtroppo soltanto per l'esercizio finanziario 2020 quelle imprese che hanno lavorato con il Comune di Floridia si vedranno ridotto del almeno 30% i loro crediti nei confronti dell'ente perché la normativa che disciplina la dichiarazione di dissesto implica che eventuali crediti gestiti da un organo straordinario di liquidazione debbano essere ridotti. Poi per quanto riguarda la situazione tributaria voglio chiarire a tutti che già tutte le tasse sono al massimo. Non abbiamo grandissimi tributi, quei pochi che abbiamo sono quello sui rifiuti, quindi la Tari è quella sul servizio idrico, i quali seguono un principio di autofinanziamento, quindi entra 100, deve uscire 100 e tutto questo è commisurato al costo dei servizi, quindi non è previsto aumento di acqua, non è previsto aumento di spazzatura. Quali benefici allora? Ma i benefici paradossalmente dovrebbero essere quelli di azzerare alcune quote di disavanzo che oggi sono scritte in bilancio e che purtroppo non ci consentono di dare seguito neanche ai servizi indispensabili. Se noi pensiamo che quest'anno per trovare 100.000 euro per dare seguito all'Asacom, un servizio indispensabile per la comunità, tra l'altro obbligatorio per legge, abbiamo dovuto veramente grattare il barile e cercare il risorso ovunque, capiamo che è una situazione appunto troppo difficile e che non può proseguire su questo solco che è stato tracciato. Quindi anche i servizi indispensabili ormai per il comune di Floridia è quasi impossibile essere erogati. È vero che c'è un'inchiesta della procura, guardia di finanza che controlla? È vero che la deliberazione della Corte dei Conti è stata inoltrata alla procura della Repubblica di Siracusa, ma questi sono atti pubblici. Poi per quanto riguarda le eventuali irresponsabilità di successori e predecessori, io non sono nessuno per stabilirle e commentarle. Mi limito a fare il sindaco, c'è questo problema, lo voglio affrontare, non lo voglio rinviare. Qualcuno diceva la strada più semplice è quella del dissesto, no, la strada più difficile è quella del dissesto. La strada più semplice purtroppo per consuetudine era rimasta quella di rinviare i problemi e non affrontarli. C'è questa situazione, i problemi vanno affrontati. Un nuovo docufilm su padre Pino Puglisi, la produzione cinematografica made in Sicili per il prete di Brancazzo ucciso dalla mafia. È tutta siciliana, la produzione di Ti ho seguito senza conoscerti. Il docufilm si confronterà sulla figura di Don Pino Puglisi, il prete di Brancazzo ucciso dalla mafia, il 15 settembre 1993, beatificato vent'anni dopo da Papa Francesco. La lavorazione del film, prodotto da Fine Art Produzioni SRL in associazioni con il centro d'accoglienza Padre Nostro ETS, voluto e fondato da Don Pino Puglisi e con il sostegno della regione siciliana, è giunto alla fase finale e ha predisposto una serie di riprese tra il territorio di Palermo e la provincia di Siracusa, a Augusta in particolare, dove assede la casa di produzione cinematografica. Grazie per la visione!